Atti sessuali con minorenni, detenzione di materiale pedopornografico e pornografia minorile sono i reati di cui deve rispondere un giovane 26enne residente a Chieti, arrestato dalla polizia, che ha eseguito il provvedimento emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti. I fatti sono avvenuti nel corso del 2019, quando il ragazzo, creando falsi profili social attraverso i quali rappresentava di essere minorenne, adescava su internet ragazze giovanissime anche di 13 e 14 anni, le quali venivano indotte a scattare e a inviargli foto ritraenti le loro parti intime, nonché video registrati durante il compimento di atti di autoerotismo che l'uomo sollecitava a compiere. Le indagini coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica dell'Aquila ed esperite dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, Polizia Postale e delle comunicazioni di Pescara, sono state avviate dopo la denuncia dei genitori di una delle giovani vittime. La polizia ha sequestrato anche il materiale pornografico detenuto dal 26enne che dopo l'arresto è stato condotto nel carcere di Chieti.